Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, that one's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nurse back to health and sent her on her way to Novigrad. Eccoci qui ragazzi, dunque siamo tornati su The Witcher, siamo alla festa in maschera con la nostra adorabile Triss e dobbiamo cercare Ingrid Wengebould, la madre di Albert, quello che dobbiamo portare fuori dalla villa. Ecco qui, allora ci sono anche le prostitute che ballano, che bello, il vestito è bunga bunga questo. Sì, è io, il compagno di giocato? Oh, sì, ovviamente. Perchè scusate le precauzioni, ma potremmo potremmo parlare in un'altra parte. Grazie per accettare a pomeriggio. Il mio valet mi ha spiegato che potremmo venire con un amico. Non è il nostro modo, però se trovi a questo uomo... Come nouno altro. Any sign of the hunters recently? Since they attacked my servant at the market, none. All has been quiet. But I bribed a man of the temple guard. He claims there's more and more talk with Albert in ranks. How did the guardsman learn about your son's interests to begin with? Unfortunately, I cannot be sure Albert himself was not the source. Cosa rispondendo su un experimento. Inizia in questo modo. Come il suo padre. Un ragazzo, ma un dimmento. Divocato da un aracchus. Non lo so se avete visto. Sì. Deve essere passato a farlo. Inizia a farlo. Potrei essere piaciuto che Albert ha adottato alchimia come suo hobby. Un'unica sicura, relativamente a parlare. Sì, fino a recentemente. Un'unica sicura. Let's get Albert. Where is he? Entertaining the guests. He's always been an outsized presence at my receptions. I preferred not to arouse any suspicions. When can we take him away? We shall have to wait until the guests have imbibed enough to notice only the goblet-laden trays. Don't fret. It won't be long. Is your son ready to go? We'll have to act quickly. Yes, I've seen to everyone. Where will you take him? You're better off not knowing any details. He'll be safe, I promise. But... Please, trust me. It's not the first time I've done this. I know. Thank you. How will we recognize him? He's donned a panther mask. He knew you were due to come for him. Seem rather excited, ironically. I'm afraid he's not fully comprehended the danger he faces. As I said, he's not terribly bright. Don't worry about that. He'll fit right in with a good number of the other mages. Geralt. Let's go find him. I shall await word from you. Ok, ragazzi. Proseguiamo la nostra missione. Andiamo a cercare Albert. Indossa una maschera a forma di pantera. Quindi... Qua non sembra esserci nessuno con la maschera a forma di pantera. Quindi diamo a vedere. No. Prendiamo di qua. Ecco qua. Forza lui, eh? Prendiamo di non varietà quella är. Cosa è solo. Gabbial mask È molto vero. È zunosato. E, no. Anno, cosa è certo. Anno. E, eh Chris, o Tackett? Il tuo incursione a Novograd, dovremmo parlare. Oh, così è. Sì, quando possiamo lasciare l'estate? Allora, mamma ha detto che è meglio di aspettare fino a tutti si fanno. Inoltre, ci saranno i fiori fiori, una buona distraczione. Una volta che si fanno iniziare, dovrei scappare in un giardino. Siamo in un'esercizio. Ci saranno qui. Molto bene. Ma prima, devi assolutamente provare il Fiorano Rosé. Assolutamente. Ok. Benissimo, vogliamo aspettare un giardino. Ok. Ah, che peggio! C'è l'esercizio? C'è l'esercizio di scegliere un giardino? Un'esercizio di ottenere l'esercizio. Non solo per un pochino. Molto vista da qui. E anche c'è un vino. È stato molto lungo, che ho venuto a un giardino, un giardino, un giardino. Un'esercizio molto piacere, da l'esercizio di Novograd. C'è l'esercizio? C'è l'esercizio di domani? C'è l'esercizio di domani? Ah, Maris. C'è l'esercizio di domani? C'è l'esercizio di domani? C'è l'esercizio di domani? Carole, tutti i magi conoscono l'esercizio. C'è un anno già più oltre. C'è l'esercizio di tempo per fare un'esercizio. In questo caso, quando hai l'esercizio di domani? Un anno dopo il tempo. T'ai l'esercizio di che non mi piace di te. C'è l'esercizio di me come l'esercizio di domani, invece di come il leader. Sì, ma tu sei la persona organizzando l'escazione di Novogrande A volte non ho capito come ho riuscito a portare tutti insieme Tu sei un leader charismatico, semplice come quello Tu pensi davvero? Absolutamente, la prossima cosa che sai, ti chiameranno chiamare Iron Marigold Puoi anche prendere un occhio e si sembrava bene Per un momento l'ho pensi che sei sincero Sì, che sei sincero, guarda me, non mi sembrava un po' C'è qualcuno che è venuto È che Albert? No, solo un'occhio chiesto Deve essere cercato per il suo amore Come in that elven tale about the frog in the lark Inchu, inchu, beag broga Inch by inch, little frog Shh, let's go Oh Oh I sure hope the other guests don't get drunk as quickly as I did The sooner we get out of here the better Oh no I plan to have a good luck at this famous maze of theirs first I hear the statues there are completely Entirely what? Newt Come on Geralt Tress wait Tress ha bevuto un bicchierino di troppo mi sa Dobbiamo tenere il passo con Tress e non perderla nel labirinto di siepi Tress ha bevuto un bicchierino di troppo mi sa Tress ha bevuto un bicchierino di troppo mi sa Big권 Miss Marygolde, at last so sorry we are forced to meet under such incredibly inopportune sollten just Miss Marygolde, at last so sorry we are forced to meet under such sicuramente dovremmo farlo in un'altra volta devo assolutamente mostrarvi il mio formule alchimico qualcuno ti seguisce? non credo solo in caso, voi due cambiate maschi andiamo prima, Geralt seguirebbe proprio dopo alcuni bambini in stables bene, ci vediamo ok ragazzi, come avete visto abbiamo baciato Triss perché ho ottenuto un segreto da cosa a parte chi lo sapeva già è la romance che voi avete votato Triss ha vinto con 53% contro 47% di Yelifern quindi abbiamo scelto Triss sono molto contento che i cacciatori di Strega sono qui come vedete fortuna che possiamo usare Yelifern abbiamo anche delle casse, guardate, pantaloni di marca allora, vediamo se possiamo passare di qua no, è labirintica questa zona eccomi siamo fuori forse allora, incontra Triss e Albert nelle staglie quindi acceleriamo il passo come dicevamo ragazzi la romance con Triss è stata scelta nel sondaggio che vi ho posto più di un mese e mezzo fa mi pare quindi andremo avanti con Triss fino alla fine ecco qua oh, ho cominciato a scelta ho cominciato a scelta tutto va bene però potremmo mandare qualcuno per... clean up il giardino prima che alcuni passano in io mandare servanti al giardino sì io andremo a vedere e devi andare in velo tutto è riuscito? sì ho avuto la scelta sì ho avuto la scelta e mi ha dato il giardino e mi ha dato il giardino è più che non è più che non è più sta accettando più sorpresciata potremmo aiutare provare un grande utile è finalmente possibile probabilmente che potresti arrivare tutti i magi fuori di Novograd sai dove trovare Come noi non avremmo dovuto? Come? È colpa del vino? No! Noi non la lasciamo scappare così. Trisa è una donna che capita... È un treno che passa una volta nella vita, ragazzi. Ecco qui. Dunque, siamo fuori. Perdono, ho sbagliato tasto. Allora, torniamo in abiti... Abiti. In armature decisamente più consone al nostro rango. Ecco qui. Allora abbiamo tutto il nostro set. Perfetto, rimuoviamo. E mettiamo la lampada magica. Ok, ragazzi. Allora. Dunque, oh, finalmente siamo vestiti con il nostro set del grifone che, vi ricordo, non mi fa impazzire. Allora, ora o mai più, incontra Triss. Io direi, andiamo avanti con la missione di Triss, cosa dite? Portiamo avanti la romance con Triss, quindi viaggio rapido, ragazzi. Vediamo quale può essere. Allora, io direi che alla piazza del Cerarch, dove siamo stati innumerevoli volte, è il nostro punto di viaggio migliore. Perfetto. Quindi, proseguiamo nella quest di Triss, poi dovremmo andare a riferire a Priscilla, quello che abbiamo scoperto su Dudu e Siri e Dandelion, per farlo evadere giustamente. E abbiamo anche la quest della Redania, dei Philip Eilard, quindi ragazzi, dobbiamo andare a parlare ancora con il nostro. Mi genera sempre in questo punto, anche poi c'è anche l'uscita lì, su un fenomeno anch'io, dunque. Vediamo se Rutiglia arriva in tempi ragionevoli o... Eccoli, era mezzo bugato sulle scale. Ok, al trotto, e andiamo verso la località dove c'è Mergo. Ho detto, se vuoi dirmi addio, ma noi non diremo addio a Triss, ragazzi, assolutamente no. Non esiste che io dico addio a Triss. Allora, si è aggiornata anche la missione ricercata in tutta la Redania, eh? Pagli in advance, il tutto il mese. Pagli, ma hai pagato il primo prezzo. Il rischio è più grande ora, e così... Io sono senza coin. Ma hai qualcosa di più, amore? Dessi un sacco e fuori qui! Chiuderebbe, oi ci farò. Geralt, non bisogna. io voglio, prendi le cose e andiamo fuori, non! quando ho bisogno di vostra aiuto, ho chiesto cosa? ti fai? fai? non ma loro apprezzavano la caccia loro rischavano molto per me mi sono scoperto sono scoperto per te la città è scoperto con i pescatori lo so abbiamo tutto in place siamo pronti per volare ma i pescatori riuscivano più veloce hanno scoperto tutte le porti ho trovato guardi in ogni corner tutto in una notte poi hanno iniziato a cercare la città street per street house per house hanno scoperto nessuno che sembra un pochino non sono scoperto la maggior parte della città sono scoperto con i pescatori riuscivano ma a volte si riuscano si riuscano attraverano i pescatori attraverano i pescatori come posso aiutare? tutto si riuscano non so dove iniziare devo portare tutti i pescatori alli i pescatori alli i pescatori portare i pescatori ma i pescatori ma Bertolti e Anise non si riuscano ad arrivare alla puntata Bertolti e Anise chi sono? un ragazzo un ragazzo è un alchemista ha fatto una pratica in Gildorf ha studiato a Arituzza mi preoccupa che le persone che si riuscano potrebbe esserci vincere vedete? Noi miei hosti non erano bene. Non sarà facile arrivare al porto. Ci sono molti guardati nelle strade. Quindi non prenderemo le strade. In caso di problemi, ci siamo tutti incontri a la Kingfisher. C'è un passaggio nell'esporto da un cello, e apparello che ci potrebbero andare all'interno all'interno. C'è un'esporto di Novograd. Ci saranno che ci saranno all'interno, ma questo non significa che sia sicuro. C'è l'esporto di te. C'è l'esporto di te. C'è l'esporto di trovare un'esporto, riuscire il passaggio per gli altri, e farlo velocemente. Ci sono stati potrebbero capire il nostro progetto in ogni momento. Adesso hai capito di capito? Mm-hm. Oggi, anche, e mettere tutti gli altri a rischio. Oggi andiamo all'interno alla Kingfisher. Abandoni i due a una morte. C'è quello che faccio, Geralt? Oggi andiamo all'interno alla Kingfisher. Oggi andiamo all'interno alla Kingfisher. Oggi andiamo all'interno alla Kingfisher. Allora, per salvarne due potremmo perderli tutti ragazzi, però non mi ricordo se le altre volte avevo salvato loro due o avevo condotto al sicuro gli altri. vediamo come va, ho scelto di fare questa strada. Allora, dobbiamo passare di qua, immagino. Dov'è Triss? E' quella qui. Prima di uscire a passare la pattuglia. Ok. Ok. E' quella loro, come ho detto. Dammi, dobbiamo! E' anche la squadra di Sorghanna. E' anche la squadra. Buon lavoro! L'acqua! Non, mi raccomando. Non abbiamo fatto nulla. Allora, ci sono i cacciastreghe, non so se dobbiamo intervenire però... Ok, usiamo l'axi. Ok, scendiamo. Continuiamo ragazzi la nostra scampagnata in mezzo a Novigrad. Dobbiamo riunirci agli altri maghi. Ok, scendiamo 3. Ok, scendiamo. Ok. 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 Allora proseguiamo. Vediamo se riusciamo a raggiungere il Martin Pescatore. ecco i ragazzi i martin pescatori c'è la botola allora io non capisco perché non estrae mai le spade però va bene così ok ragazzi abbiamo perso un mago ma ne abbiamo salvati due quindi la missione si aggiorna se volete vedere come prosegue nel 36esimo episodio io vi invito ad iscrivervi al canale per sapere quando ve lo metto online oppure a lasciarmi un bel like se vi è piaciuto l'episodio e seguirmi sui miei social che ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione grazie a tutti per aver visto questo episodio di The Witcher e ora che abbiamo la romance attiva con Therese andiamo avanti ciao ciao a tutti ragazzi grazie per questi video grazie a tutti grazie a tutti